Ciao ragazzi, ben ritrovati sul canale, sono Ben. Finalmente ci siamo. Eccoci qui nella foresta pluviale amazzonica per giocare la demo di Green Hell, che è stata appena rilasciata e io mi ci sono fiondato come un coccodrillo del rio delle Amazzoni sulla sua preda. Il sviluppatore di questo gioco è Incuvo, che sarebbe il team specializzato nello sviluppo VR che sta lavorando per Creepy Jar, sviluppatore originale della versione flat del gioco, nella quale ho già collezionato oltre 300 ore, sopravvivendo nella giungla. E quindi ragazzi non aggiungo altro, non vedo l'ora di giocare questa demo e non vedo l'ora di giocare anche la versione completa del gioco. Ciao mia, io vado su eh, ci vediamo dopo. A dopo. Ciao. Ok, ragazzi, graficamente è molto pesante al momento, perché essendo una demo non è ancora stato ottimizzato. La stessa cosa era successo anche per... E' effetto. Come here. Giusto, giusto. Abbiamo il walkie-talkie. E quindi prendiamo il walkie-talkie e... Click. Ah, che belle queste interazioni, va bene, va bene. Allora, ovviamente in questo gioco c'è una storia, una modalità in singolo per poter giocare, c'è anche una bella storia scritta bene, molto molto interessante, anche emozionante, commovente, insomma non vi spoilerò nulla ragazzi, perché veramente è una bella storia. Per un gioco del genere è una storia anche insolita. Sta per crashare il gioco. Cosa è successo? Ok, sì, è una cosa che ho notato anche ieri. Quando ho preso il diario per la prima volta, ha fatto questa specie di mega freezing. Al momento, ovviamente, non c'è nulla nel diario. Ah, lanciando la pietra l'ho rotta. Grande. Ah, questa è una cosa fantastica. Forse magari determinate azioni nella demo non sono ancora disponibili, ma vedremo. Comunque c'è qualcosa che non va, perché ieri il gioco andava molto fluido. Adesso invece sta statterando molto. Allora, provo a riavviare il tutto e vediamo come va. Niente ragazzi, ho provato a riavviare, ma il gioco continua a essere un po' statteroso. Non so come sta avvenendo nella registrazione. Forse magari lo vedo così io nel visore. Forse magari perché sto usando questi due, magari sul Rift S risulta essere un po' più leggero. Però vi assicuro che ieri sera era molto molto fluido. Pari della versione flat, praticamente. Però vabbè, considerate che è perfettamente normale. Perché essendo una versione demo, come vi dicevo prima, quindi di un gioco che è appena uscito, o meglio, che sta per uscire. Quindi ancora non è stato ottimizzato. Ci sta, ci sta. Un po' di stuttering, qualche bug, che al momento comunque non ne ho trovati. E mi va bene così. Ed eccoci qui, al campo. La demo non è altro che l'inizio del gioco, della storia in singolo. Quindi all'inizio del gioco farete esattamente le stesse cose che state vedendo in questo video. Diciamo a mia che siamo arrivati al campo. Ok, ho trovato il gioco. Tutto va bene? Ma, fa un po' c***are. Bene, e qui mi spiega come utilizzare lo zaino. Lo zaino si può prendere dalle spalle, bloccare premendo il trigger, il grilletto, e si apre nelle tre sezioni. Qui dentro praticamente ci andranno tutti gli attrezzi e le corde. Qui dentro ci andrà il cibo. Mentre qui dentro ci andranno le rocce, tutto ciò che si trova per costruire altri oggetti e per sopravvivere. Mentre qui, in questa sezione, andranno le armi e gli strumenti per accendere il fuoco. Si può rimettere nelle spalle. E adesso dice che per mettere la lattina nello zaino ci sono diversi modi. Oppure si può mettere direttamente nella spalla sinistra. Oppure si può mettere direttamente nella spalla destra. Per prendere quello che abbiamo nello zaino ci sono le tre sezioni di cui vi parlavo prima. Si prende la lattina. No, questa non è una lattina. Si prende la lattina e si mette... Questo è, diciamo, un tutorial che nella versione flat non c'è, perché vi sta spiegando l'interazione con gli oggetti. E qui si comincia il tutorial della parte un po' più d'azione, diciamo. Questi sono alcuni degli animali che si incontreranno nella foresta pluviale. Queste sono le ranocchie, quelle mortali. Non toccare. E qui ci sono dei registratori, almeno nella versione in singola nella storia. che si troveranno e possono essere ascoltati. Qui vi spiega un po' qualche dettaglio della popolazione degli abu-yaka, abu-yaka, qualcosa di genere. E qui c'è una lavagna nella quale posso scrivere... Iscrivetevi, ragazzi. Iscrivetevi. Condividete. Mettete un like. E portate i vostri amici su questo canale. C'è tanta bella roba da vedere. Vediamo sul diario qual è l'obiettivo. Dove cazzo è il diario? Oh, non riesco a prendere il diario. Allora, qui cosa abbiamo? Ah, ecco, il diario. Come accendere un fuoco? Allora, per costruire tutto quello che si può costruire in Green Hell, c'è questo diario dove ogni etichetta è una categoria di costruzione di oggetti. Qui, per esempio, c'è l'etichetta per fuoco e per le cose da mangiare. Metti il ghost per terra. Posizioni il ghost. Quando è bianco è posizionato. Quando è verde significa che si può posizionare. Quando è rosso significa che non puoi posizionarlo e devi spostarlo. Ok, dice... Vai agli alberi per procurarti della legna. Dovrei avere... Ecco qui, zac. Un bel macete. E cominciamo la nostra opera di costruzione. Ok. Ok. Si possono tagliare anche le foglie. Ecco, già ho perso il macete. Menomale che ce ne sono dodici qui intorno. Mi dà un fastidio perché ieri stavo andando alla grande. Faccio vedere anche... Si possono tagliare le palme. Tutto, tutto, ragazzi. Si può tagliare tutto. Anche gli alberi più grossi. Queste sono foglie di banano che più avanti servono per... Per costruirsi le armature. Bene, sto deforestando la foresta pluviale amazzonica. Ok, direi che abbiamo abbastanza legno. Ora, ci sono diversi tipi di bastoni, tronchi, eccetera. Questo è un bastone normale. Il bastone normale... Questo è un bastone lungo, invece. Questo è un bastone lungo. Il bastone lungo, se lavorato, può diventare un bastone. Il bastone, se lavorato, può diventare un bastoncino. E poi ci sono anche i tronchi dagli alberi più grossi. Come vedete, questo è un albero sottile e vengono fuori questi tronchi lunghi. Mentre questo è un albero dal tronco un po' più grosso e vengono fuori questi tronchi così, un po' più lunghi. Se lavorati, vengono fuori due bastoni lunghi. Stessa cosa, per esempio, per le pietre. Ci sono le pietre. Solitamente le pietre sono nelle prossimità dei corsi d'acqua. E al momento non ne sto trovando. Vabbè, molto probabilmente trattandosi di un tutorial. Eccola qui. La pietra, se lavorata, diventa così. Fantastico, ragazzi. È fantastico. Due pietre insieme fanno una lama di pietra che serve per poi poter lavorare, per esempio, le carcasse degli animali. Niente, non posso farvi vedere la lavorazione degli oggetti perché nel tutorial, al momento, non si può fare. Quello che devo fare è seguire quello che mi dice il tutorial. Quindi, il tutorial mi richiede di recuperare legna per accendere il fuoco. E facciamolo. Bisogna prendere un po' di manualità con la raccolta degli oggetti perché bisogna proprio puntarli bene. E inoltre, bisogna assicurarsi di sentire la vibrazione quando si ripongono nello zaino perché altrimenti si rischia di farli cadere invece che metterli nello zaino. Gli oggetti pesanti non sembrano effettivamente così pesanti perché ovviamente è impensabile riuscire a muovere un tronco del genere. Mi sarebbe piaciuto effettivamente la possibilità, che ne so, per esempio, anziché di portarli così, doverli proprio trascinare qualcosa del genere. C'è un accenno di fisica, però effettivamente, ragazzi, nemmeno Kenshiro riuscirebbe ad alzare un tronco del genere di polso proprio. C'è un accenno di fisica, vedete? Se io tengo fermo la mano, per esempio faccio questo. C'è un accenno proprio di fisica. Nella versione flat, per esempio, di questi bastoni lunghi se ne potevano portare fino a cinque. Si impilavano sulla spalla e venivano portati praticamente così, a spalla. E quindi io mi spostavo, mi giravo e me li portavo in giro. E poi li buttavo per terra, nella versione flat. Tronchi, invece, se ne potevano portare fino a tre. Venivano impilati così, si portavano sulla spalla. E poi, arrivati sul posto, si buttavano per terra, si lavoravano e si faceva quello che si doveva fare. Però le interazioni mi piacciono molto. Cioè, mi piace molto, per esempio, questa possibilità di tenere l'oggetto in mano e lavorarlo direttamente col macete. Invece, nella versione flat, c'è semplicemente una rotellina d'azione che dice distruggi, lavora, scarta. L'adattamento in VR è fatto molto bene. Su questo non c'è dubbio. Ok, ho raccolto abbastanza bastoncini. Opla, si può anche saltare in questo gioco. Andiamo a posizionare tutti gli oggetti. Devo trovare qualcosa di asciutto. Io qualcosa di asciutto ce l'ho già. O meglio, forse non l'ho ancora preso. Allora, poco fa ho abbattuto queste palme. Per recuperare qualcosa di asciutto in Green Hell ci sono diverse possibilità. C'è la possibilità, per esempio, di prendere una foglia asciutta, già secca. Come vedete, alcune foglie di palma sono secche, alcune sono verdi. C'è la possibilità di lavorare la foglia verde, quindi ridurla in pezzi. Poggiarla per terra, oppure metterla nello zaino e con il tempo si deteriora, si asciuga e diventa secca. Oppure prenderla già secca come sto facendo adesso. Oppure ci sono i nidi. Ecco qui, l'ho recuperato. Solitamente dentro il nido c'è anche l'uovo e l'uovo si può mangiare. Adesso cosa devo fare? Dallo zaino devo prendere il nido, la foglia secca o quello che è. Lo metto lì. Mi serve la pietra focaia, che è, solitamente, pietra focaia. Eccola lì. No, cos'è? Ho recuperato... ...del fango. Ah, prima devo prendere il walkie-talkie perché altrimenti... Ecco, quella cosa di mia ha dimenticato a portare gli accendini, i fiammiferi... Così, inquiniamo la foresta mazzone. Ecco, qui mi ha detto che ha dimenticato l'equipaggiamento per accendere il fuoco e quindi devo fare alla vecchia maniera. Le liane possono essere anche tagliate, vengono prese e riposte nello zaino, oppure possono essere afferrate, tirate e messe nello zaino. Le liane servono ovviamente per fabbricare delle corde. Con le corde possono essere fatte tante, tante cose. Non vedo l'ora più che altro di mostrarvi la modalità libera. È infinita, è enorme. Ci ho passato al momento oltre 300 ore e ci gioco ancora. Cosa bisognava fare nella versione flat? Bisognava prendere un bastoncino e un bastone, mettere dentro la foglia secca e strofinare due bastoncini per fare attrito, fare calore e quindi accendere il fuoco. E poi metterlo nella pira di legna, insomma. Ma qui invece, fantastico, pietra focaia sulla lama e si accende il fuoco. Guardate fra l'altro anche l'effetto dell'aria tremolante attraverso il fumo. Ragazzi, purtroppo non so, ripeto, sta atterrando un po'. Io dico, guardate il dettaglio grafico, guardate l'effetto della luce che filtra attraverso gli alberi. Stiamo parlando veramente di un giocone, eh. Creepy Jar ha fatto veramente... Fra l'altro quelli di Creepy Jar sono ex Techland. È gente che ha lavorato per Techland su Dying Light. Quindi non stiamo parlando di gente alle prime armi. Stiamo parlando di gente che ci sa fare. Green Hell, io ho avuto la fortuna di essere un tester della prima alfa che uscì qualche anno fa, della versione flat. E quel gioco lì, praticamente, l'ho visto crescere. Io ho cominciato a giocare che ancora non c'erano neanche i capibara in giro per la foresta. Era un'enorme e bellissima foresta, ma non c'erano animali, non si potevano fare molte cose. Era proprio base come gioco. E poi è diventato quello che è adesso, che è un gioco enorme. Addirittura ci sono stati anche due DLC con dei contenuti aggiuntivi. Insomma, il gioco è diventato veramente enorme, che offre tante tante ore di divertimento. Ok, qui adesso viene spiegata praticamente quella che sarà la storia. Questi due personaggi, Jake, che impersoniamo noi, e Mia, sono due ricercatori che hanno scoperto questa popolazione dei Abu Yaka che vive nella foresta pluviale amazzonica e stanno cercando un contatto. Lei è un'antropologa che studia popolazioni antiche. In teoria questi Abu Yaka dovevano essere estinti e loro stanno cercando un contatto appunto per poterli studiare, magari farci anche delle ricerche, ricerche ovviamente di tipo linguistico, culturale. E al tempo stesso vogliono, diciamo, cercare di farlo in un modo tale che i media e il resto del mondo non vengano a rompergli le balle. Vogliono preservare il loro essere liberi nella natura, però al tempo stesso vogliono conoscere questa popolazione che in teoria doveva essere estinta. Ma la storia non è tutta qui, perché ovviamente giocandoci vedrete che niente è come sembra. Ecco, vi dico soltanto questo. Ok, qui Mia ci ha lasciato un bigliettino. Accidenti. Eh sì, sono al villaggio, raggiungimi tramite radio, quando ti svegli c'è un piccolo dono per te. È il dono. Allora, intanto chiamiamola alla radio. Hello? Mia? Ah, c'è ancora scritto iscrivetevi. Ok, dice, sei già sveglia perché non mi hai... sei già andata via perché non mi hai svegliato. Lei dice, sai che odio gli addi. E lui dice, ero solo preoccupato. Lei sta dicendo, ah, credevi che mi fossi dimenticata del tuo compleanno? Dice, ti ho lasciato un regalo. E il regalo è questo orologio qui. È un orologio che non solo dice l'ora, la data, ma dice anche le coordinate e le macro, cioè proteine, carboidrati, acqua e grassi. E questa è la bussola con le coordinate e questo invece è il datario. Ora è data. Controlliamo l'orologio. mancano un po' di carboidrati che recuperiamo con questa barretta proteica. Questo è il 90% del gioco. Questo orologio qui è l'80-90% del gioco. Se non tieni d'occhio questo, è inutile che giochi perché moriresti nel giro di pochi minuti. Ok, Mia. Sono ben riposato e nutrito, pronto per cominciare la mia avventura nella floresta pluviale amazzonica che si chiama pluviale perché piove sempre. Ok, e qui Mia si sta spiegando che lei è già arrivata nei pressi del villaggio, si è anche riuscita a mettere in contatto con il capovillaggio di questa popolazione però loro ovviamente sono un po' resti perché sono dei selvaggi che vivono nella natura quindi non sono abituati a persone che vengono dall'esterno non sono abituati alla tecnologia quindi se vedono radio, telefoni e altre robe varie si insospettiscono, si spaventano. Guardate il dettaglio della pelle che si bagna sotto l'acqua. Ok, vediamo cosa devo fare. Ogni nuova cosa che scoprite ve lo segna sul diario. La pianta che ho raccolto adesso è la molineria che sarebbe quella pianta con quei fiori gialli che c'era qui e serve per curarsi. Perfetto, quindi devo andare a prendere la pianta di tabacco che possono essere combinate con la moliniera per curare le ferite da veleno per esempio i morsi del rattlesnake del serpente a sonagli. 6605 e attiviamo il compasso e dobbiamo andare a nord. Vai a nord e trova la pianta la pianta di tabacco. Mi da un codice 6605 il nord è da quella parte la bussola funziona davvero quindi se mi giro la bussola gira. Ok, quando ci sono questi tronchi con questo fogliame rosso significa che su quei tronchi ci si può arrampicare. Infatti qui adesso mi dice che c'è questo rampino qui 6605 via ok prendiamo il campino e lo tiriamo su lo tiriamo meglio ok perfetto e possiamo salire mia sono caduto come un deficiente e mi sono spaccato una gamba questo in pratica è il significato sul corpo quando venite morsi attaccati oppure vi ferite per qualche motivo vi spunteranno realmente delle ferite per esempio quando vi attacca il giaguaro vi spunteranno i graffi per controllare le braccia basta semplicemente alzarle ruotarle e guardarle anche per togliervi i vermi oppure le sanguisuga mentre per le gambe bisogna premere il thumbstick destro o sinistro in base alla gamba che volete controllare ecco qui in questo momento la mia gamba destra non è messa benissimo lo devo dire adesso a me mi sono solo fatto un graffio ma nella giungla qualsiasi piccola ferita che sembra insignificante potrebbe essere letale quindi al momento sì mi ricordo come curarmi e siccome l'ho già trovata come si creano qui gli oggetti allora nella versione flat si apriva una ruota dove c'era la sezione per la creazione e spuntava una roccia sulla quale dovevano essere poggiati gli oggetti combinati e creati qui invece hanno fatto una cosa che ho molto gradito si deve letteralmente prendere il tavolo per la creazione posizionarlo davanti a noi e poi i vari oggetti da combinare posizionarli sul tavolo adesso vediamo se nella versione VR si può fare come nella versione flat cioè se io ho tre moliniera posso creare contemporaneamente tre bendaggi posso non riesco a togliere lo zaino oh Gesù perché allora mi sposto perché non so per quale motivo non riesco a prendere lo zaino piazza una foglia di moliniera sul tavolo perché non posso farlo ci riproviamo quindi lo posizioniamo qui e di nuovo oh perfetto si forse lì magari era un po' buggato e non lo potevo fare allora e questo è un bendaggio tutto quello che fate vi aumenta delle statistiche qui per esempio adesso mi è aumentata l'abilità di crafting quindi più aumentate le abilità più siete bravi a fare quella cosa a costruire quella cosa la costruite in modo più resistente quindi per esempio gli attrezzi per tagliare gli alberi fare qualsiasi altra cosa più li usate più li costruite e più saranno resistenti perché fra l'altro utilizzandoli gli oggetti si rompono ora come la applico semplicemente la avvolgo vicino al braccio ma siccome siamo in un tutorial e devo fare quello che mi dice prima devo crearne un'altra per la gamba ok e adesso dice avvicina il vendaggio sulla ferita il tuo braccio ma vabbè ieri sera ha funzionato tutto alla grande non c'è stato il minimo problema adesso non riesco più a far funzionare il tutto come si deve allora devo avvicinare il vendaggio al braccio e niente neanche alla gamba non funziona neanche sulla gamba non posso neanche costruire il terzo vendaggio perché essendo che è un tutorial è bloccato su questa schermata e non posso neanche prendere più il tavolo per costruire costruire un terzo vendaggio magari non so si sono buggati quei due vendaggi e insomma ragazzi mi dispiace non posso farvi vedere la fine del tutorial che comunque si conclude in che modo io adesso mi facevo il vendaggio me ne andavo a dormire e il gioco faceva vedere che passavano circa 30 giorni infatti spunta la scritta giorno 32 al risveglio del giorno 32 c'è mia che mi chiama per radio disperatamente chiedendomi di andarla a recuperare perché si capisce che è successo qualcosa di molto grave mia infatti chiama in lacrime chiedendo a Jake di andarla a recuperare e quindi da quel momento in poi il nostro obiettivo diventa quello di trovare mia e questo è l'inizio di Green Hell finalmente sono riuscito a realizzare uno dei miei piccoli sogni videoludici cioè quello di poter entrare personalmente nella foresta amazzonica fin dal primo momento che ci ho giocato con questo gioco in flat ho pensato chissà come sarebbe questo gioco in VR e finalmente bug permettendo sto cominciando a vedere cosa significa entrare dal vivo in uno dei miei giochi preferiti e non vedo l'ora ma al tempo stesso non vedo l'ora di no di incontrare il coccodrillo e il giaguaro vedremo cosa succederà bene ragazzi grazie per essere arrivati alla fine del video grazie per la visione like iscrizione e campanella da bene è tutto non appena ci saranno altre novità per quanto riguarda l'uscita di Green Hell ve lo farò sapere immediatamente quindi restate sintonizzati perché ci vediamo alla prossima e ci vediamo in VR ciao a tutti